La Transumanza che unisce all'iniziativa presentata in Regione, che segue il riconoscimento in materiale unesco della Transumanza e che metterà l'Aquila e l'Abruzzo al centro del mondo dopo il rinvio dell'anno scorso. Da allora il patrariato costituito ad hoc si è impegnato per tutelare e promuovere l'elemento Transumanza anche sotto l'aspetto materiale. Come ha ricordato il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ne è nato un progetto di cooperazione interregionale Parcovie 2030 da candidare per reperire nuovi finanziamenti dalla programmazione nazionale e che vede coinvolte diverse regioni del centro-sud che hanno percorsi identitari per arrivare ad una guida nazionale sulla Via dei Pastori. L'iniziativa si inserisce nella perdonanza celestiniana e vede la collaborazione tra il Consiglio regionale, i Comuni dell'Aquila e Sulmona, Conferenza delle Regioni, Parco Nazionale della Maiella, Maiello Unesco e Festa D'Annunziana. Il programma si articola in due giorni, 30 e 31 agosto. Il 30 saranno presentati il progetto Parcovie e il programma di valorizzazione della Transumanza. Il 31 agosto sono previste la visita al Maxi, alla Basilica di Colle Maggio e ad altre chiese legate ai trattori e alla Transumanza. Sono previste iniziative tra l'Aquila e Sulmona, con spettacoli, momenti culturali e un convegno scientifico sul ruolo della Transumanza. Tracciando fisicamente le vie dei pastori, che noi riteniamo essere un grande elemento, un grande attrattore territoriale, che porterà turismo sostenibile nelle regioni del centro-sud, in particolare dell'Abruzzo, collegando queste vie della tradizione di un tempo, che in buona parte, almeno nelle tre regioni principali, Abruzzo, Molise e Puglia, sussistono già nel demanio dello Stato, quindi sono fungibili, alla conoscenza di tutto il mondo e di tutta l'Europa. Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha voluto ringraziare il Consiglio regionale per l'attenzione, parlando anche del forte legame tra l'Aquila e Sulmona. In rappresentanza del sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, c'era l'assessore Manuela Cozzi, coniugare Transumanza e Perdonanza è fondamentale a detto a livello identitario. Dietro al progetto c'è un grande lavoro scientifico da parte del Parco della Maiella. Per la prima volta si accetta l'idea di costruire una visione sistematica dei trattori e si riconosce una rete che è fondamentale per tutti gli sviluppi che ci sono stati nei nostri territori di carattere economico, sociale ed anche ambientale.